ciao amici del tempio ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi vi voglio illustrare tre calci principali dello stile kona ryu shomen zenzoku gheri sokuto gheri e mawashi gheri li andiamo a vedere insieme e vi faccio una descrizione dettagliata ok ragazzi allora di solito si parte sempre in posizione san cindaci guardia classica del kona ryu o questa o questa oggi per consuetudine mi metto in guardia normale standard iniziamo con lo shomen zenzoku gheri zenzoku gheri perché sempre la gamba frontale in avanzamento è un calcio che viene fatto con la gamba in avanti di solito anche in altri stili si chiama anche kizami gheri ok caricamento un po arretrato del ginocchio dove tengo il piede su e poi sparo il calcio di solito è un calcio basso ai genitali quindi da qua in maniera veloce è questo movimento quindi da piazzati bene san cindaci o nagai san c un pochino più comoda e faccio il calcio shomen ok so kutu gheri si parte sempre a posizione san cindaci io oggi tengo la guardia normale so kutu gheri calcio laterale col taglio del piede può essere fatto o di solito a 45 o proprio laterale dalla vostra figura o addirittura in avanti viene fatto sia con la gamba frontale sia con la gamba posteriore ora vi faccio vedere quindi in avanzamento laterale a 45 gradi o addirittura proprio proprio verso il vostro fianco ok in questo stile le dita dei piedi vengono verso il basso ma si possono ottenere anche verso l'alto per esempio lo stile sciotto con altri stili di solito il su kutu gheri viene fatto con le dita in su è un dettaglio che caratterizza lo stile ok però l'importante è avere bene il piede in tira spingere col tallone e colpire sempre sempre col taglio del piede sempre san cindaci ma washi gheri oggi ve lo faccio con la gamba frontale quindi chizza ma washi e lo stile con a rio non si torce molto il piede posteriore quindi se devo fare un calcio frontale specialmente basso sulla coscia o sul ginocchio evito di girare troppo il piede posteriore perché è molto corto se devo tirare più su il calcio allora necessito di ruotare il piede d'appoggio ok viene fatto sempre con la gamba davanti o se no viene fatto con la gamba indietro in america in america si chiama low kick ok spero vi sia piaciuto allora amici siamo arrivati alla conclusione di questo video spero vi sia piaciuto spero che vi abbia aiutato questa delicitazione di questi tre calci importanti del conar rio se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina al prossimo video ciao dal tempio massimo